Salve a tutti proprio youtube, io sono Giottoandatrix e benvenuti nel canale di Agamaster Gang qui per un nuovo video, ma questa volta non sarà un video per noi o qualcosa del genere questa volta sarà un video solamente, interamente dedicato a voi infatti sarà un giveaway, un giveaway di cosa vi chiederete a voi? molto semplice, come potete capire dal titolo daremo delle chiavi, sarà un giveaway di chiavi di Total2, per chi non lo sapesse le chiavi sono quella cosa che ti permette di scaricare un gioco che magari è a pagamento, infatti Total2 è a pagamento, lo abbia costato 20 o 30 euro, ora non me lo ricordo, però noi ve lo diamo completamente gratuito, in quanto noi abbiamo già Dota 2, per questo non ci servono queste chiavi e le offriamo gratuitamente a voi come si partecipa? è molto semplice, basterà essere iscritti al nostro canale, quindi noi vedremo ogni canale che parteciperà e vedremo se sei iscritto al nostro, chi non è iscritto non ne daremo conto, quindi bisogna essere iscritto al nostro e bisogna semplicemente commentare questo video facendoci capire che state partecipando al giveaway, al contest diciamo, non solo dicendo quello che volete, basta che appunto ci fate capire che volete partecipare, anche un semplice partecipo per noi andrà bene, noi vi prenderemo in considerazione al momento dell'estrazione potreste uscire voi e quindi potreste vincere la chiave di Dota, parentesi, per avere questa chiave naturalmente dovete avere Steam, per chi non ce l'ha, se vuole partecipare, se vuole Dota 2, se lo facesse perché altrimenti non potrà ricevere Dota 2. Questo giveaway durerà da oggi, venerdì 10 maggio, fino alla prossima settimana, per se precisi sabato 18 maggio, è già tra domenica e lunedì prossimo potrete già sapere i risultati, potrete già sapere se avete vinto la chiave. Noi accetteremo comunque tutti i commenti postati da appena parte questo video, appena esce questo video, fino alla mezzanotte di sabato prossimo, appunto di sabato 18 maggio. Specifichiamo una cosa, quante chiavi si vinceranno, quanti saranno i vincitori, i vincitori saranno a seconda di quanti saranno i partecipanti. Infatti abbiamo deciso che nel caso di 5 partecipanti, in poco a poco di 5 commenti che chiedono appunto di partecipare, si avrà una sola chiave, sarà solo uno il vincitore, a 10 ne saranno 2, a 15 ne saranno 3 e così via fino ad arrivare a un massimo di 7 chiavi. Quindi ripetiamo tutto dall'inizio. Per partecipare al giveaway basterà mettere un commento sotto a questo video facendoci capire che parteciperete. Per partecipare l'unica vera regola è che bisogna categoricamente essere iscritti al nostro canale, perché mi sembra la cosa più normale, più giusta sia per noi che per voi. Il premio saranno una chiave per ognuno di voi e come ho detto saranno 1 in caso di 5, 2 in caso di 10, 3 in caso di 15, 4 in caso di 20, 5 in caso di 25, 6 in caso di 30 commenti e 7 in caso di 35 commenti. E poi andando avanti, puttacaso, saranno sempre 7. Il tempo quindi, la durata sarà da oggi 10 maggio fino a sabato prossimo che sarà appunto il 18 maggio. Noi speriamo che partecipiate in molti. Mi raccomando, condividete questo video, mettete mi piace a questo video, mettete mi piace alla pagina Facebook della GTG, della Gamers Day Gang, mettete mi piace alla pagina di Twitter, seguiteci anche su Twitter, fallowateci su Twitter. Se volete ci abbiamo anche già andato di uno stima, ma non so nemmeno che fine ha fatto, che si abbia trattato a Google+. E niente, noi speriamo che questa idea vi piaccia. Mi raccomando, partecipate in molti. Vi ricordo che questo video è solamente per voi, che questo giveaway è solamente per voi per ringraziarvi per quando ci seguite. E niente, noi vi ringraziamo di cuore e ci vediamo al prossimo video.